in questo esercizio vediamo come modellare una teiera a partire da una foto questa è una teiera particolare, non è una semplice teiera ma diciamo che ha un valore storico in quanto è la famosa teiera di Martin Newell fatta nel 1975, la Uta Teapot che in sostanza è stata il primo esempio di modellazione mediante freeform, cioè forme libere tracciate con delle curve di Bézier, in sé è una banalissima teiera comprata in supermercato dalla moglie di questo Martin Newell. Cominceremo con la teiera quindi dalla foto, tracceremo quindi l'asse e le varie spline che genereranno poi prima il profilo del corpo, poi il profilo del coperchio, quindi manico e poi il becco. Alla fine vediamo il corpo definitivo, cioè la forma definitiva della teiera modellata in modellazione solida, questo è il coperchio in modellazione solida, quindi usata per solidi di rivoluzione, quindi rivoluzione e superfici loft. Congeliamo la foto, questo è il risultato finale, quindi questo qua adesso è un corpo unico, quindi abbiamo unito il corpo centrale fatta di un profilo ruotato attorno a un asse come solido, lo stesso il coperchio è un solido quindi da profilo, il becco è fatto da dei profili e dalle guide fatte appunto con loft e loft è anche il manico, il tutto unito è creato quindi un corpo unico. All'interno il corpo quindi sarà forato nella parte che riguarda il becco per la fuoriuscita del tè. Alla fine faremo anche un'applicazione di materiali sulla teiera con una superficie di appoggio.